stasera ovviamente questo diciamo è l'argomento del diciamo il menù della della serata e partiamo questo si vede no si tradisce la mia età questo qua per una certa età già già sa di che cosa si tratta per gli altri allora partiamo con un quiz va bene allora qua devo avere la vostra collaborazione la vostra qual è la pietanza tipicamente italiana va avanti dite la pasta poi la pizza pizza minestra prendiamo un attimo le varie varie allora pasta pizza pizza minestra polenta ok no polenta fuori infatti sarà fuori è stato automaticamente messo fuori perché tradisce le proprie origini fuori la polenta fuori legumi vabbè ok ci siamo tutti quanti quindi perché abbiamo fatto questa specie di classifica la pizza e ci sta la pasta ci sta io da buon si sente che non sono di diciamo di bergamo bassa periferia sud di bergamo insomma quindi io ci ho messo la pastiera scusa lo so però visto che preghetto ormai sono anche mezzo molisano messo anche la pizza minestra ma se vi dicessi che nessuno di questi piatti è tipicamente italiano allora qual è la pietanza tipicamente italiana è così banale che penso che tutti quanti perché nessuno di voi lo individua la pizza minestra maritana allora cosa dice questo fra tommasino da controne in questa novella di di questo autore si chiama giovanni cercambi allora dice ma già mettere lenti perché non allora trovando alcuni erbucci da saleggiate come sono raponzoli salbastrella primi fiori e ruchetta ed altri erbi cogliamo un'insalatuzza che la remo a cena e in realtà la pietanza tipica italiana esclusivamente italiana è l'insalata nessuno nessuno lo sa questo qua ma l'insalata perché il modo di mangiare la misticanza così la chiamiamo quindi l'insalata cruda e condirla con sale olio e aceto è una usanza tipicamente italiana perché la pasta ebbè sappiamo che è stata importata comunque da marco polo altre altre volte la pizza e sappiamo che fra i migliori pizzeri sono gli egiziani c'è un sapere condiviso da tutte altre cose anche la pizza minestra c'è con questi ingredienti fra diciamo mais che arriva praticamente con gli ingredienti comunque gli alimenti del nuovo mondo e altre cose condiviso anche da altre regioni quindi abbiamo questa piccola sorpresa e tra parentesi anche il è così specificato così una pietanza tipicamente italiana che sono stati scritti dei libri e addirittura delle modalità su come condire questa l'insalata quindi ci stanno delle c'è anche una letteratura al riguardo allora infatti c'è la legge insalatesca in uno di questi trattati insalata ben salata poca aceto e ben oliata e chi contro così giusto comandere il comandamento e poi c'è degno di non mangiare mai buona insalata quindi c'è proprio un allora questo siamo nel mille già nel 1500 1600 ma addirittura anche la storia dell'insalata risale ancora a prima allora che cosa si dice giusto per avere una un'insalata bisogna avere un saggio per il sale un avaro per l'aceto un prodigo per l'olio e poi un matto ovviamente per girarlo nel 600 è anche un po tutto il sud noi adesso siamo abituati a dirà per il molisano allora tracchiurella carne e porche tutta sta bella storia qua ma in realtà anche queste sono acquisizioni diciamo di opulenza ma sono moderne ma in realtà nel nel nei secoli passati la tradizione era quella di mangiare foglie cioè di mangiare soprattutto verdure tant'è vero che gli spagnoli chiamavano anche in modo dispregiativo italiani del sud principalmente napoletane come i mangia foglie perché perché ne si nutrivano principalmente di di verdure quindi la nostra tradizione è quella pregente di essere diciamo di avere questo tipo di alimentazione bene questo ricordiamoci anche per la cosiddetta dieta mediterranea che è stata detta ed è stata travisata in tantissimi modi cioè adesso quando si legge il libro originario di Angel Kiss e si vedono delle diete mediterranei si vedono che sono proprio due cose completamente diverse se avete letto anche nel un po nel comunicato stampa questa questo modo di dire mangiare le piante spontanee viene chiamato sinteticamente con una parola italiana coniata da questo autore fiorentino giovanni targioni tozzetti si chiama alimurgia un termine un po un po strano non si capisce bene che cosa lui che volesse intendere ma è stata una parola che adesso viene utilizzata non dico comunemente perché penso che per molti di voi sarà la prima volta ma è una parola completamente travisata nel senso che il termine alimurgia per giovanni targioni tozzetti era un termine che veniva riferito alla riorganizzazione di un sistema agrario stiamo parlando della fine del intorno al 1750 1760 quando dopo le ci sono state anche dei dei picchi climatici particolari cioè le piccole glaciazioni caratterizzate da forti escursioni climatiche il diciamo tutte le organizzazioni culturale preghete va in crisi quindi sono periodi di carestie periodi in cui sostanzialmente la gente ha grossi problemi di fame non sono ancora arrivati gli alimenti del nuovo mondo cioè le patate i pomodori i peperoni non le zucchine non erano coltivate non erano mangiate addirittura ci sono degli agronomi o dei diciamo esperti insomma in quel caso l'agronomo si occupava anche un po di alimentazione che diceva sì volete mettere i pomodori benissimo questo si chiama manetti questo questo autore invece i pomodori sono sono belli come decoro adesso si direbbe l'impiattamento la mise en place il dressing ma sono alimenti di nutrimento miserevole quindi dice serve solamente per bellezza le patate non vengono utilizzate arrivano in italia alla fine del 1700 all'inizio nel 1800 quindi perché sono noi quello che chiamiamo cucina tradizionale è una cucina che in molti casi non ha più che 200 anni 150 anni no quindi anche questo questo aspetto di chiamare tradizione tutti quelli che dicono non si mette questo ingrediente perché non fa parte della tradizione sono tutte quante delle esagerazioni che si fanno quindi volevo giusto dirvi il diciamo il concetto spesso si dice all'imurgia si riferisce alle piante spontanee mangerecce ma in realtà questo erudito toscano non aveva nessuna intenzione di di chiamarli in questo modo una cosa che era interessante che però questo 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 in questo autore fa e che nella fer sempre nello stesso periodo questo il 1764 fa un censimento cioè propone scrive questo libricino perché suggerisce l'uso di ben 200 e più piante 230 piante per accrescere il volume del pane cioè abbiamo poca farina dobbiamo aumentare la quantità di farina per la panificazione ok allora dobbiamo utilizzare alcune piante vi dico quali la cosa interessante che poi apre un altro capitolo e che questo autore scrive questo libretto citando 230 piante in vernacolo toscano perché dall'altra parte c'era qualcuno che leggeva e sapeva di quale piante bisognava trattava quindi significa che all'epoca la conoscenza delle piante botanica condivisa era molto maggiore rispetto all'attuale adesso noi abbiamo questa specie di inversione di tendenza che è molto piacevole cioè abbiamo un decadimento della cultura pastorale contadina che ormai si è rosa ma fortunatamente questa conoscenza che prima era appannaggio di queste culture adesso viene trasferita in altri fasce diciamo di popolazioni in altri strati strati sociali in questo modo la il sapere la sapienza in qualche modo vengono comunque preservate e vengono mantenute quindi volevo giusto farvi un piccolo excursus su queste cose quante sono le piante commestibili selvatiche che sono in italia allora ho fatto un lavoro un po di qualche un po di due annetti fa insomma e ho fatto un censimento prendendo tutte le piante che nella tradizione popolare italiana erano citate e ho visto ho fatto un conteggio che mille cento tre entità cioè circa mille cento tre mille cento tre specie sono citate un numero incredibile cioè immaginatevi che circa il 12 per cento di tutta la flora italiana cioè di tutte le specie che vive in italia può essere viene utilizzato o veniva utilizzato come alimento quindi un numero incredibile questo ci fa sempre che noi diciamo abbiamo tanti difetti però se ci toccano il cibo praticamente noi diventiamo delle delle iene no quindi perché siamo sempre stati un po dei leader da questo punto di vista quindi quando parliamo anche di bio diversità cioè come numero inteso come numero di specie vediamo che anche da un punto di vista delle biodiversità alimurgica cioè il numero delle specie spontanee mangerecce noi siamo praticamente ai primi posti in in europa faccio anche qui un piccolo aggancio su questo sapete quanto a quanto ammonta la flora del regno unito intera cioè quante specie di vegetali sono del regno unito circa 2400 specie 2300 adesso si in molise sapete quante specie ci sono 2460 e passa quindi da solo il molise ha un numero di specie che è superiore a quello del regno del regno unito quindi noi da questo punto di vista più specie abbiamo specie consumiamo e maggiore l'importanza perché abbiamo una possibilità di scegliere fra tante piante per la nostra alimentazione e vedremo che queste piante sono straordinarie sono umili come dicevo quella cosa della 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 smoffia una casa umile ma onesta sono pregente delle delle piante che sono molto umili ma vedremo che sono veramente straordinarie allora in molise quante piante alimurgiche ci stanno circa 143 quindi vengono utilizzate ma se guardiamo quest'altro grafico e adesso poi andiamo avanti questo sono il 143 e 644 sono le piante che potenzialmente potrebbe essere utilizzate per l'alimentazione quindi in questa epoca anche di cambi climatici dove molta una agricoltura deve essere ripensata in funzione delle temperature degli sbalzi anche climatici avere comunque un parterre c'è un insieme di specie che può essere domesticato e può essere utilizzato per l'agricoltura è di per sé molto molto interessante dunque come dice ma queste piante sono veramente ecco insomma questa cicoria sta cicorietta qua che ci hanno portato questa è in dotazione un regalo per per me questa sì no questo ma picchina da voi allora questa umile cicoria insomma che è una pianta così bistrattata o comunque considerata quasi c'è tolte di serie b è veramente così banale è veramente una pianta che ci può servire sempre per fare ogni tanto una cicoretta ripassato o qualche altra cosa o una pianta che dovrebbe ha delle proprietà incredibili che potrebbero entrare anche quasi nella quotidianità della nostra nel nostro pasto pasto quotidiano allora l'idea del diciamo anche di questo di questo incontro è quello di guardare in realtà questa è una frase di proust molto conosciuta cioè il viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma avere nuovi occhi allora vediamo oggi di avere nuovi occhi e guardare forse con maggior riguardo e rispetto queste piante della nostra della nostra flora allora il menù di stasera noi arriveremo sotto sotto diciamo verso fino alle 8 no grosso modo se questa è un'ora e mezza quindi già diciamo in qualche modo il metabolismo inizia a far sentire la sua voce parleremo di cicoria dei cacigni della borraggine e del rosmarino forse non riuscirò nemmeno a parlare di tutte e quattro di queste di queste specie però vedremo e vabbè ci vuole tre orsi sì l'ortica è straordinaria ma qua ci sono sono tante specie che sono anche questa qua che vanno hanno portato questa qua che hanno portato la piantaggine altra pianta straordinaria però insomma qui io io comunque da molto probabilmente da ottobre inizierò un corso sulle piante alimurgiche che si tradurrà insomma in una sette otto incontri che avrà per tema il riconoscimento delle piante l'uso corretto e la raccolta quindi insomma poi casomai se volete vi informerò allora questo un'altra ancora prima di iniziare attenzione bisogna saperle raccogliere perché non tutto quello che alla fine è naturale è buono allora guardiamo quali quali sono i rischi innanzitutto una cosa non si deve mai conto che alcune di queste specie sono molto simili alcune specie rare quindi si raccolgono pensando di fare una di fare una bella minestra e poi alla fine perché si raccolgono delle specie rarissime tipo prima le ha citato l'ortica per esempio in sicilia c'è questa ortica rupestris che specie rarissima che è stata decimata proprio per la raccolta delle delle ortiche oppure questa qua in sardegna non c'è un aspetto in verità molto invitati in questo in questa fase ma questa anche un'altra specie endemica molto molto rara poi insomma i sardi sono un po particolari anche nelle loro allora questa è un'altra specie che spesso è venuta alle diciamo agli onori delle delle cronache pregente la la mandragora che è stata confusa molte volte sia con la bietola diciamo spontanea o anche pregente alcune volte con la borraggine ma fin qua insomma la si non sto dicendo la mandragora è velenosa quindi pregente alla fine questa qua non bisogna consumarla e ovviamente la bietola e la borraggine sono due ottime piante commestibili quindi molte volte io sono iscritto anche a dei gruppi facebook e sono straordinari da questo punto di vista perché la si capisce proprio certe volte come funziona il cervello umano allora sono molte persone non poche allora presi da questa euforia che pregente si raccoglie e si magna allora raccolgono le piante le mangiano e poi postano dico ma si può mangiare sta piante non ci direi ma allora alcune volte alcuni di questi sono scomparsi dal gruppo non voglio non non voglio capire perché però insomma alcuni a certo punto c'è stato per brevità non l'ho messa ma c'è una sequenza che mi sono conservata alcune volte a lezione la mostro di una che fa ho preso allora poi ci sono tutti gli esperti che rispondono ho preso questa pianta non dice che cos'è si può mangiare quello fa allora ci sono il gruppo del gruppo del tarassaco e il gruppo si mangia e tarassaco si mangia va bene va bene non ti preoccupi mio padre la chiamava e poi un nome condominiale solamente di quella famiglia eccetera eccetera questa si vede che tutti quanti si si mangia si mangia si mangia questo si vede che fa dei ravioli con questo ripieno e questa pianta si chiama verbasco blattaria ora la blatta non so se vi ricordo qualche cosa che tra le puzza pure ma dico se tu metti ma non te ne accorgi che sta pianta puzza e non può essere utilizzata è scomparsa anche questa dal gruppo quindi c'è una selezione naturale riposa in pace ci piace ricordarla così con i ravioli serviti ma chissà pure a chi altra velena e questa spesso si raccoglie l'aglio ursino pianta ottima straordinaria che adesso sta anche questa è diventata un'altra moda raccoglierla vediamo anche diversi ristoranti che la servono anche questi piatti a base di aglio ursino dell'aglio ursino si consuma soprattutto la foglia alcune volte anche i boccioli fiorali ma fortunatamente da noi è rarissima il mughetto la comballaria maialis ma questa pianta come vedete c'ha una foglia molto simile e quando si raccoglie praticamente così per farne grossi quantitativi ci può capitare dentro questa è una pianta tossica anche mortale è un'altra pianta ancora che ancora più diciamo che assomiglia con le foglie a questa qua è un'altra che si chiama il colchico colchicum autunnalis che anche da noi fortunatamente non c'è quindi perché questi rischi di intossicazione sono limitati ma nel nord Europa dove queste piante sono più frequenti alcune volte ci incappano i raccoglitori ovviamente non esperti quando vogliono fare soprattutto delle grosse quantità anche perché questa profuma di aglio o puzza a secondo dei gusti l'altra no è in odore quindi perché da questo punto non si può equivocare e per finire non potevo concludere se non con questa pianta cioè con il colchicum autunnale immaginate la colchicina è una sostanza che viene utilizzata per evitare la divisione cellulare quindi viene messa anche per per fare quando si fanno i vetrini a osservare al microscopio si utilizza la sostanza quindi e questa è veramente devastante perché i danni compaiono soprattutto sulla ematopoiesi sul quindi sulla anche sulla sul sangue su altri tessuti le mucose no che sono i tessuti a più veloce proliferazione compaiono inizio a accompagnare come dei vomiti poi dopo due quattro giorni pregente insomma il guai è fatto e non ci sono dei rimedi specifici anche per questa per questa pianta che viene confusa con lo zafferano ma se voi guardate anche un po il fiore state un po attenti vedete che la differenza è veramente molto molto evidente quindi bisogna conoscere le piante non bisogna buttarsi però oggi vedremo un gruppo di piante che è facile in qualche modo da individuare non c'è bisogno di sapere le specie quindi essere un esperto e che sono quasi tutte quante buone almeno non sono tossiche caso mai qualcuno dirà è troppo amara non c'è un sapore che non mi piace tanto ma comunque non sono tossiche allora prima di queste la cicoria va bene allora la cicoria pianta comunissima perché si chiama cicoria e vediamo anche perché paradossalmente è difficile quando dico difficile da riconoscere la cicoria c'è ma questo non sape niente ma capiti invece perché perché la cicoria è stata una delle prime piante domesticate cioè anche ai tempi dell'antico egitto questa pianta tanto per il nome probabilmente deriva anche da una radice egiziana significa chiocorion cioè io coltivo cioè per indicare che questa pianta veniva presa lo spot diciamo dallo stato spontaneo e veniva coltivata quindi veniva tra virgolette migliorata cioè resa più appetibile per le nostre per i nostri gusti perché questa è difficile da riconoscere perché sta pianta sta allo stato spontaneo ed è stata coltivata quindi è stata si è ibridata in continuazione quindi esistono cicorie che sono pelose cicorie completamente glabbre cicorie con la foglia completamente intera cicorie con la foglia ecco di questo tipo qui cicorie che sono per esempio col fusto rossastro cicorie che sono completamente bianche c'è una variabilità interna che è molto 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 ampia quando hai in fiore sono tutte commestibili adesso le vedremo quando quando fiorisce chiaramente la pianta poi è diciamo è facilmente riconoscibile questo è quello che normalmente si mangia ed è questa che viene chiamata diciamo il linguaggio botanico viene chiamato rosetta basale e poi abbiamo queste sono altre parte del fiore che sono come vediamo un fiore veramente molto 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 bello allora è una pianta sapete tutti quanti bene diffusa comunissima e soprattutto dove è presente la cicoria è presente nei campi molte volte anche abbandonati negli incolti e vedremo che gran parte di queste piante che sono le piante salemurgiche sono proprio di questi ambienti cioè di ambienti si dice ruderali cioè di ambienti incolti i più miserevoli anche qua i più reietti no che noi possiamo possiamo anche immaginare quindi un doppio miracolo allora questa pianta vediamo anche qualche proprietà perché è importante consumare la cicoria già la hai diciamo nel nel tempi antichi secondo la medicina egiziana questa pianta era considerata un ottimo drenante per il fegato quindi aveva una funzione di depurazione del fegato assieme a tante altre che poi vedremo questo è contenuto praticamente questo antico testo medico si chiama il papiro di ebers che risale al 1550 avanti cristo dove vengono dedicate molte non pagine perché era un papiro sezioni proprio alle proprietà terapeutiche del di questa pianta e come utilizzarla come coltivarla e come farne anche dei rimedi per la per la salute allora questa conoscenza poi viene confermata anche sempre da altri medici dai grandi medici del del passato abbiamo galeno abbiamo anche di oscoride tutti quanti perché si confermano anche la la propria azione di questa pianta soprattutto sul fegato e poi vedremo anche su un altro organo importantissimo che è l'intestino quindi già nei millenni passati già questa pianta era riconosciuta soprattutto per la sua proprietà terapeutica c'è anche un'altra cosa che noi molte volte consumiamo la nostra alimentazione dei nostri gusti alimentari pensiamo ad esempio alle proprietà straordinarie anche dell'aglio che anche qui assieme all'ortica non ho potuto trattare ma perché noi consumiamo l'aglio probabilmente non perché è il condimento ma perché è una pianta che ha delle virtù terapeutiche così importanti che entrava costantemente nell'alimentazione e questo ha condizionato e formato il nostro gusto e noi adesso siamo soliti utilizzare per fare un battuto all'italiana cipolla carota sedano oppure anche con l'aglio ma in realtà il processo è inverso non l'abbiamo utilizzato noi come pianta aromatica è perché la pianta aromatica ha queste proprietà e sono state utilizzate nella cucina e anche tutte le piante aromatiche hanno questa genesi questa storia il rosmarino l'origano origano significa oros ganos cioè splendore della montagna c'è una pianta che pregente ha per le sue proprietà terapeutiche che sono straordinarie praticamente rendeva queste montagne splendide cioè pregente di grande importanza allora andiamo un altro un altro pilastro della della cultura della sapienza medica del medioevo santa il degarda di binghe non so quanti di voi la la conoscono era questa era straordinaria una donna straordinaria che era una badessa ma diciamo in qualche modo è badessa perché lei poteva in questo modo accedere al biblioteca e studiare e soprattutto pubblicare dei libri che molte volte non erano diciamo in linea con il potere quindi diciamo essere badessa la la mette un po a riparo a tanti altri 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 problemi diciamo con una giustizia ordinaria ma è un personaggio enorme perché lei nel medioevo ha fatto una sum una sintesi una silloge di tutte le conoscenze mediche che fino a quel momento si si avevano e dei rimedi naturali quindi pregente lei propone anche dei rimedi le diceva che aveva delle estasi per cui direttamente questi saperi venivano anche comunicati dal diciamo come dote e spirituale ma era anche una musicista conosceva 17 lingue insomma c'è un capoccione terrificante e quindi perché è una una diciamo un personaggio interessantissimo che vi conviene anche in qualche modo anche leggere oppure studiarlo dal punto di vista della tradizione popolare anche quella la pianta era una delle piante talismaniche praticamente contro il malocchio alcune volte si metteva anche sotto questa è una tradizione che addirittura in molise in alcune zone è stata si era conservata per alleviare i dolori delle partorieti si metteva sotto le lenzuolo sotto sotto il cuscino quindi questa pianta chiaramente quello che rimane nella tradizione ha sempre un fondamento di di verità quindi bisogna anche saper non bollarlo come antiscientifico ma bisogna anche cogliere i suggerimenti la medicina attuale accolto ha fatto dell'etnobotanica cioè dell'uso delle piante nella tradizione popolare una miniera perché ha utilizzato tutti i suggerimenti e gli usi che si erano sedimentati per millenni per poi capire e coglierne praticamente il la modalità per trasformarlo in farmaco un esempio più eclatante l'aspirina esattamente allora già l'aspirina che sapete perché il nome aspirina viene dato una pianta una rosacea cioè affine alle rose si chiama spirea spirea olmifolius per cui spirea aspirina e il principio è l'acido aceti salicilico salicilico salice no infatti che sappia e questo questo questa sostanza queste queste molecole sono contenute in queste diverse piante fra cui questo quindi questo l'uso che si faceva del decotto della corteccia del salice e anche della spirea che viene utilizzato per curare le febbri le infezioni degli uomini e degli animali quindi è stata presa ed è stata trasformata aceti il salicilico perché hanno preso dal tutto il fitocomplesso cioè da tutte le sostanze che sono assieme all'acido salicilico che è contenuta nelle piante hanno estratto solamente quello che si chiama il principio attivo la differenza è questo immaginatevi la differenza fra fitocomplesso e principio attivo il fitocomplesso è un'orchestra dove c'è anche un solista immaginare un concerto per violino e orchestra il fito il principio attivo è solo il violinista ora molte volte se sentite suonare il tutto l'orchestra a qualcosa di bello di armonioso è tutto organizzato se sentiamo e sentiamo suonare solamente il violinista alcune volte comunque da fastidio da solo può anche essere non dico sgradevole ma quasi allora che cosa succede se noi prendiamo un decotto per esempio di di spirea o di di salice questo è gastro protettivo cioè perché fa bene allo stomaco oltre a dare il nostro l'acido salicilico se lo prendete assomago vuoto che succede ovviamente quindi vedete c'è un effetto diametralmente opposto quindi adesso senza scendere in questi in questi dettagli però vediamo che il mondo delle piante molto estremamente complesso i fitocomplessi sono centinaia e centinaia di sostanze che si sono evolute in centinaia di migliaia o di milioni di anni e quindi noi estrarre solente una parte e utilizzarla perché la dobbiamo brevettare viene utilizzato come medicinale chiaramente un'operazione un po che lascia il tempo che trova va bene andiamo ancora avanti questo perché è importante avere mille cento tre specie perché alla fine dalla domesticazione vengono fuori anche altre piante che noi consumiamo cioè le puntarelle tanto per dire o a quest'altra forma che viene chiamata anche catalogna per esempio derivano tutti quanti da domesticazione della cicoria oppure ancora un altro suo parente è questo il radicchio quindi se non avessimo avuto questa pianta non avessimo avuto nemmeno tutte queste altre guardiamo un po a qualche proprietà nutrizionale poi fare il focus su una su una sono piante estremamente complesse vedete grassi preghetti quantità molto molto blande 25 per cento di proteine carboidrati il 70 per cento fra questi carboidrati voglio segnalare uno in particolare che vedete in grassetto si chiama inulina che cos'è questa pianta e perché ve lo segnalo allora guardiamo anche le quantità di di sali minerali che sono notevoli quindi qua ci abbiamo già un fa bisogno di una pianta ricchissima in sali in sali minerali ma se poi andiamo anche a guardare il contenuto alcune volte di di alcuni amminoacidi anche qui abbiamo dei contenuti che sono molto molto elevati e lipidi ma giusto per farvi vedere delle cose e questo è tutto tutto lo spettro che dovete ricordare a memoria adesso però vedremo che c'è un trait d'union molto una linea molto importante fra la cicoria e i cacigni sono per certi detti molto simili tra di loro nel senso che abbiamo dei contenuti molto alti di vitamina a e oggi ne parlavo proprio con la professoressa fra di anni alcune volte il contenuto di vitamina per cento per cento grammi e superiore alla dose quotidiana consigliata per perso quindi immaginate e sono ricchissimi di vitamina a ricchissimi anche di vitamina e ma anche c'è un buon contenuto delle vitamine di tipo b solo che le vitamine di tipo b sono preganti idrosolubili allora quindi se noi pregando queste quale mettiamo nell'acqua le perdiamo un tempo si beveva l'acqua della cicoria ma perché era un modo anche per recuperare anche inconsapevole o forse no di recuperare tutto quello anche i sali molti sali minerali e le vitamine che sono contenute per cui spesso noi anche queste piante le utilizziamo che di partenza sono piante ormai mi si è affezionato questa ma me la metto in testa come sto così sto bene allora queste piante che sono straordinarie però le maltrattiamo attraverso una cucina che è impropria quindi tutto questo deve essere tutta diciamo adesso si parla di filiera no dalla raccolta che deve essere buona ma deve essere anche la scelta della pianta giusta e dobbiamo anche cucinarla in modo giusto allora se noi le lessiamo e nella un po tradizione anche meridionale c'è sto fatto di lessarla ma forse ultimamente si è si è un po calmata no ma io mi ricordo quando ero anche diciamo piccolino ma insomma si si mangiavano una volta anni anni fa sono stato anche picco una volta sono stato piccolo roggio di età ma insomma sempre stato abbastanza corpulento e arrivano queste zucchine insomma se vi ricordate queste zucchine molle praticamente che arrivano sul piatto e dicevo tipo mangiami fammi finisci questa sofferenza proprio era era un atto di pietà che noi avevamo nei confronti della zucchina non era di di fame ma una volta che noi abbiamo stracotto le verdure perché abbiamo eliminato buona parte delle delle sostanze tipo la vitamina per esempio b1 con la cottura diciamo ne rimane nella 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 porzione circa il 30 massimo il 40 per cento se non sbaglio no allora noi abbiamo tante vitamine allora abbiamo la vitamina c che è quella che si deteriora nel senso allora perciò di che alcune di queste di queste piante andrebbero mangiate crude perché la vita allora cotta le temperature lanciamola le aspettate allora le cotture che diciamo preservano le il contenuto vitamine vitaminico ad eccezione della vitamina c sono quelle cotte al vapore e stufate perché preghete non c'è bisogno dell'acqua quando noi le lessiamo e poi successivamente le utilizziamo abbiamo perso una buona parte delle vitamine vitamine e di anche di sali diciamo sali minerali se la fai stufato che significa cuocerla con poca acqua significa che quell'acqua di cottura poi rimane e quindi tu praticamente alla fine la vitamina b così la vitamina c se la cuoce a vapore la fai stufata la fai lessata te la perdi perché insomma dopo imparare 60 65 gradi perché della vitamina c allora vediamo un attimo questa questa sostanza erano rimasti col fatto dell'inulina no insomma tanto per fare un tipo racconto non ho fatto l'inulina allora questa inulina è una è una sostanza è un sono un oligosaccarica cioè preghetti immaginate per chi non ha dimestichezza con la un po con la chimica organica immaginate uno zucchero glucosio un zucchero semplice con un mattoncino di lego possiamo avere dei diciamo degli zuccheri che sono composti da più mattoncini da pochi o da tanti anche zuccheri diversi che si alternano in questo caso un oligosaccarica è formato da una catena con pochi zuccheri che troviamo anche in altre in altri alimenti come ad esempio le cipolle l'aglio il tartufo bianco gli asparagi i carciofi i porri le banane e anche cosa il topinambur tra parentesi queste piante qua il topinambur il carciofo sono appartengono alla stessa famiglia della cicoria quindi sono tutte quante un pochettino tra di loro un po parenti allora vorrei sapere anzitutto in questo momento mi seguite ancora ci siete a posto vabbè allora quest'inulina perché è importante questa è la composizione chimica l'inulina non ce ne frega in questo momento poco ma giusto per far vedere che questa sequenza anche di zuccheri ma la cosa interessante dell'inulina che non viene diciamo in qualche modo toccata non viene smontata dai succhi gastrici quindi arriva direttamente nell'intestino ora penso che forse molti di voi sapranno cosa il microbiota cioè pregente della flora intestinale ora quest'inulina ha una funzione molto interessante soprattutto sui bifidobatteri quanti di voi hanno consumato il si chiama base con bifidobatteri no c'era la marcuzzi che faceva la pubblicità eccetera eccetera ecco noi questa flora noi già in parte l'abbiamo alcune volte viene un po scombinata anche dai nostri costumi alimentari dal fumo viene con anche dalla dallo stress per cui l'inulina è il terreno di cultura cioè preghete favorisce enormemente lo sviluppo dei bifidobatteri quindi ci fa benissimo proprio allo al nostro al nostro apparato intestinale allora che cosa cosa funziona l'inulina no non non viene non diciamo non viene toccata dalla dalla cottura quindi succede una cosa anche interessante adesso entro un po più ma sfioro un po il questo questo argomento nel senso che vengono prodotti anche da questi batteri degli acidi grassi a catena corta che hanno anche una funzione interessante molto molto interessante sugli enterociti c'è preghete su una parte delle cellule che ricoprono il lume interno cioè il condotto interno di nostro di parte del nostro intestino questo significa evitare anche che si creano delle queste micro perforazioni che spesso sono anche di alimenti di sostanze che spesso sono fonti di infiammazioni anche in altri compartimenti del nostro organismo quindi ci tutela un buon funzionamento del del dell'intestino semplicemente se noi ragioniamo con questa con questa con questa con questa scala ma guardiamo ancora questo tu prima diceva ci sono delle evidenze scientifici ce ne sono tanti tanti lavori ne ho preso uno diciamo fra i più recenti appunto sull'azione anche del di questi acidi grassi a catena corta ma la un buon funzionamento anche di e degli enterociti che cosa produce produce anche un migliore assorbimento del calcio quindi questo significa che anche noi molte volte abbiamo anche soprattutto una certa una certa diciamo l'età problemi anche di assorbimento del calcio con problemi di osteoporosi e quant'altro allora spesso si danno dei degli integratori e quant'altro ma alcune volte non si si pensa che bere il latte no alla fine contiene calcio calcio assominabile abbia questa diciamo in qualche modo abbia questa funzione dimentichiamo anche preghetti un'alimentazione anche di verdure come questo anche la stessa cosa i cacigni che migliorano l'assorbimento anche del del calcio e questo anche una funzione de diciamo che sfiamma l'intestino che molte volte adesso la banalizzo scusatemi questa questa cosa ma alcune volte anche una funzione queste infiammazioni che sono costanti permanenti su alcune alterazioni anche di cellule tumorali di tumori al colon per cui si è visto anche una evidenza fra una riduzione consumo di di cicoria o di altri alimenti del genere è una riduzione anche dei canchi al colon quindi vediamo già da questo punto di vista questa pianta la dovremmo mangiare almeno insomma non dico tutti i giorni va bene allora ricapitolando e poi andiamo veloce su altre cose questo è tutto il linulina funziona sul sul colon bifidobatteri acidi a catena corta protezione gli enterociti e questo tutto questo determina anche una sintesi del colesterolo perché questa pianta è anche importante anche per la sintesi del colesterolo buono c'è l'hdl quindi ancora un altro un altro effetto positivo e poi abbiamo detto anche l'assorbimento del calcio ma anche del magnesio tutto questo in una sola pianta per chiudere questa queste proprietà vedete che anche cardiotonica regolatrice della pressione arteriosa e anche praticamente dai fiori soprattutto prima di chiedere se i fiori sono edibili si sono edibili ma in pratica dai fiori si ricava soprattutto dei delle specie di colliri almeno nella tradizione popolare che aveva una funzione antiflogistica cioè antinfiammatoria va bene è questo però volevo fare anche un'altra un altro riferimento forse qualcuno li utilizzo altri altri no sono anche i fiori di bacco uno dei diciamo dei rimedi fiori bacche cicori e soprattutto viene indicato per chi soprattutto a questi incombenza parte della famiglia persone oppressive no che stanno la ti tolgono l'aria e cicori in qualche modo anche questa funzione psicologica di alleviare di far mettere di nuovo un pochettino i confini e le barriere quindi i fiori di bacca anche si rivolgono soprattutto sulla funzione psicologica delle delle persone quindi vi ho riassunto questa tutte queste 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 cose per cui santo santo subita la cicoria preghete grazie grazie ringrazio il nome della cicoria ma lei con le vibrazioni mi ha comunicato che vi ringrazio tantissimo allora chiaramente attenzione c'è una cosa quindi quando si parla della anche torniamo sui cibi tradizionali pizza e minestra pizza e minestra se voi pensate che accoglie la cicoria i cacigni e poi chiaramente si fa con le verdure stagione perché ognuno qua c'ha la sua ricetta per carità non voglio entrare in questa come la pastiera ognuno c'ha la sua ricetta però pensate pensate questo piatto così umile quante proprietà ha no cavatelli e carri di porche se dico mi faccio un nemico qua preghete lo so benissimo però una pizza e minestra è straordinaria quindi è un alimento che una pietanza che dovrebbe essere consumata almeno una volta a settimana perché se poi aggiungiamo a tutti i cacigni e tutte le altre piante anche i semi di finocchio che sarebbero poi i frutti del finocchio aumentiamo ancora straordinariamente di più le proprietà terapeutiche questi sono alcuni piatti della non so se l'avete mai sentito il macco per esempio di fave che sono uno dei piatti perciò più antichi anche della della cucina romana e poi questo era una diciamo un non si sentirà nulla qua però diciamo in muto adesso vi troverete un un personaggio che tutti quanti conoscete che a un certo punto gli offrono un bel caffè esattamente questo è totò imperatore di capri intanto per raccontarvi allora eccolo qua allora vediamo se che cosa dì è una bravi bravissimi allora infatti questo qua questo caffè è una ciofeca allora attenzione qua volevo fare anche qui una fare una riabilitazione della ciofeca a parte tutto io la bevo perché insomma a me piace ma al di là dei gusti personali la ciofeca è stata vista come una succedane un sostituto del caffè in realtà da fonti documentarie si sa c'è la tradizione popolare dell'uso della ciofeca già nel 1400 quindi ben prima che il caffè arrivasse arrivasse sulle nostre tavole perché perché era utilizzato come decotto soprattutto per i bambini per i nonati quando avevano dei problemi intestinali quindi era una bevanda considerata proprio per diciamo curare un po' dei problemi intestinali quindi diciamo la ciofeca è venuta prima del del caffè poi ha avuto su questo competitor come si dice adesso perché la messa l'ha messa fuori gioco è questo oh arriviamo ai nostri Cacigni abbiamo ancora un'altra mezz'oretta di tempo quindi Cacigno riusciamo a farci anche qualche altro argomento perché si chiama Cacigno? qua la domanda allora viene chiamato anche in italiano Grespino, Crespino, Crespini, Crispini insomma comunque la radice è quella allora si chiama in però nel dialetto abruzzese e molisano viene chiamato Cacigno viene chiamato Cacigno perché è strettamente collegato alla tradizione pastorale perché viene da caseus cioè significa formaggio ed era il compagnatico del pastore cioè io mangio il formaggio, c'è il pezzo di pane e la galletta che mi portavo e vicino mettevo una verdura qual è la verdura disponibile pregente nei pascoli e nei prati per un pastore? sono i Cacigni questo è un po' il diciamo il concetto ora tutte queste queste piante anche quindi vengo anche un'altra domanda come tutti quelli i Cacigni in realtà come vedete ho messo una piccola parte delle specie che vengono chiamate Cacigni in realtà sono circa quasi una ventina di specie tutte quante diverse è veramente molto complicato anche certe volte riconoscerle perché non sono caratteri facili alcune volte si guardano i peli che stanno sulle foglie tanto per darvi un'idea però come si fanno un po' a riconoscere queste piante perché tutte queste piante attenzione però vi dico questo e poi qua lo dico e qua lo annego nel senso tutte queste piante quando vengono tagliate queste fanno parte delle cosette cicoridee tutte quelle che hanno questi fiori e questa impostazione anche dell'infiorescenza quando vengono tagliate vedete emettono del lattice cioè questo lattice biancastro che pregente viene messo e spesso hanno il fusto vuoto allora questo già è un buon indizio ma attenzione attenzione non tutte le piante che mettono il lattice sono buone da mangiare ci sono le euforbie ad esempio che sono micidiali sono tossiche sono veramente caustiche una di queste piante che viene chiamata euforbia latinis viene chiamata anche catapuzza che si era veniva messa questo per dispetto questo sempre con la tradizione degli agricoltori delle goccioline di questa catapuzza perché dove stavano i frutti soprattutto che stavano al confine quelli che potevano essere presi più facilmente rubati perché è un purgante devastante tanto per il termine catà significa verso il basso catarro, reo, catà, cioè scorro verso il basso e questo catapuzza, catà verso il basso il resto lo collegate voi e avete capito che cosa significa va bene? quindi questo è diciamo un buon indizio per diciamo capire che stiamo parlando poi come tutti i cacigni ma quella che non si deve mangiare ce l'ha ancora? non c'è la catapuzza no, ma c'è un fiore diverso, c'è un aspetto completamente diverso voi guardate i fiori, i fiori diciamo sono tutti quanti di quelle piante che possono essere mangiate bene o male con il fiore del tarassaco il fiore del tarassaco lo conoscete? come no? non lo conoscete fuori da quest'aula subito allora adesso facciamo vedere poi anche il fiore del tarassaco sono così, adesso vi farò vedere diversi esempi di queste piante ecco aspetta allora hanno tutti quanti i fiori così sono gialli sono tutti quanti gialli e sono fatti in questo modo tra parentesi ognuno di questi pezzettini è un fiore quindi questo non è un fiore, è un'infiorescenza che è formato da centinaia di fiori va bene? tanto è vero che poi alla fine abbiamo finisco un attimo con questo e poi vengo a lei allora questo qua perché è il soffione, un po' lo conoscete è composto da tanti frutti ognuno di questi qui, diciamo di queste parti che volano ognuno di questi è un frutto se lo vedete ingrandito assomiglia un pochettino al semino del finocchio che è un'ombrellifera ma è tutta un'altra famiglia prego le florescenze gialle e viola sono commestibili tutti? no, allora, non diciamo queste, allora, no, no allora, no, allora, io so, guardate la forma del fiore perciò ho detto guardate del tarassaco che hanno i fiori gialli come il tarassaco allora, nella peggiore delle ipotesi non vi piacciono ma comunque non vi intossicate quindi questo è, però, il suo fatto che io l'ho trovato questo qua ma i fiori gialli, i fiori violi, no perché ci sta la mandracola, ci sono i fiori violi che praticamente è tossica i fiori gialli ci stanno altre piante che hanno il verbasco c'è il fiore giallo ed è pure tossica quindi questo non significa assolutamente nulla quindi la botanica, cioè bisogna conoscere le piante non bisogna buttarsi così, insomma quindi quindi non vorrei aver creato dei piccoli mostri che dicono adesso andiamo a raccogliere e poi l'intossicazione di massa ok, allora, guardate vi faccio vedere giusto una piccola rassegna di queste piante questo è un soncus si trova anche molte volte se voi adesso fate caso, camminate anche nel centro storico, ai monti trovate perché, come si chiama, vicino ai marciapiedi, nei bordi trovate questa pianta qua, che adesso sta in fiore proprio con quest'acqua praticamente trovate degli alberi che sono enormi questa si chiama soncus soleraceo soleraceo perché significa è buona da mangiare quindi veniva addirittura anche questa un tempo coltivata poi abbiamo l'altro suo parente faccio vedere qualcuno, soncus asper perché ha queste puntine che già in questo periodo diventano un po' dure e quindi ovviamente non si può mangiare poi ci abbiamo ancora, sempre nel caso dei crespini il genere crepis questa è crepis vesicaria perché ha i fiori che sembrano un po' delle visciche sono un po' rigonfi poi tutte le rosette basali cioè tutte le foglie, tutte queste qua, si mangiano quando già sono fiorite queste piante già si possono raccogliere le cimette le foglie più tenere che stanno sul... e la è la difficoltà ma anche con i fiori non è sempre facile ma infatti la difficoltà è questa cioè uno, scusatemi dovrebbe avere questa, quando raccoglie avere come ricercatori di funghi, no? sa il proprio posto conosce le piante, vede che piante fioriscono dice, ah si, qua ci stanno tutti questi fiori gialli che sembrano cacigni l'anno prossimo o quando la stagione lo permette vada a raccogliere soprattutto in queste prime fasi siate molto molto prudenti quindi questo è il consiglio ah, questo vedete, questo è il tarassaco e vedete questo bocciolo bello cicciottello, bello carnuso è molto buono soprattutto se si raccoglie in questo stadio e si mette o sotto sale come dei capperi oppure sono anche sotto aceto sono molto molto buoni allora, anche un'altra accortezza vedete, gli argomenti si aprono a un po' tante cose chiaramente nella raccolta bisogna stare attenti anche del luogo dove si raccolgono cioè significa che chiaramente io non vado a raccogliere bordo strada no? ma in posti che siano in qualche modo un po' tutelati quindi non ci siano dei posti per esempio di gas di scarico di piombo il piombo non ci sta più insomma comunque di altri inquinanti quindi bisogna anche scegliere bene il posto spesso io alcune volte ho un po' di problemi a mangiare anche le cicorie che vengono che arrivano dall'ortolano o verdumaro come si vuole perché alcune volte vedi questi qua che praticamente però fanno una bella raccolta e li vedi proprio vicino ai bordi strade quindi da questo punto di vista bisogna essere sempre oculati anche nel posto dove non ci sono scarichi, non ci sono delle cose ma generalmente queste vengono sempre dopo il post cultura cioè nel senso delle zone coltivate poi abbandonate e si iniziano a sviluppare questo anzi più disturbate sono più ce ne sono allora guardate queste immagini il minotauro per indicare queste piante come anche da noi vabbè che mi ha già mai un po' di verdura boh, sembra che dice vabbè necessita virtù e uno con l'aria un po' mesto ma nella tradizione a meno nella mitologia addirittura pregrente il teseo prima di affrontare il minotauro dice che abbia mangiato un piatto di grespino quindi io mi sono immaginato anche qua che pregrente lui teneva un piatto con la pizza in minestra anche teseo molisano insomma da questo punto di vista eh? anche loro però pensate che molte piante che noi reputiamo proprio così e così un po' insignificanti oppure dice ma ci mangi qualcosa di sostanza per le culture antiche era completamente diverso sapete com'è il nome greco del finocchio? maraton e questo già avevi detto tutto molte volte gli atleti mangiavano il finocchio per avere una funzione energizzante e la stessa cosa anche le piante aromatiche e queste piante qua che sono erano considerate delle piante energizzanti quindi anche da questo punto di vista dovremmo considerarle e guardate anche qui l'altro vabbè saltato la vitamina E proprio vabbè gli alti contenuti vitamina A e vitamina E che sono che sono notevolissimi anche in questo caso la vitamina A ha contenuti altissimi ehm allora questo è un giusto per fare un po' una anche per mettervi al corrente anche delle attività di ricerca che anche il il mio dipartimento il dipartimento anche dal professoressa Faradiani stiamo conducendo anche sulle composti praticamente attivi della diciamo contenuti in diverse piante che spesso non si non si conoscono queste sono le principali vedete anche qui agisce molto sul fegato è un un depurativo del del fegato e tra le pareti per la medicina cinese questo è il momento in cui noi dobbiamo agire per lavorare sul drenaggio depurazione del fegato e trovare i benefici durante l'autunno quindi la per la medicina cinese è tutto spostato cioè si lavora sempre nella prevenzione e si lavora mesi prima cioè nel senso se io non voglio avere problemi di raffreddori, influenza eccetera eccetera inizio a lavorare adesso e questa è una pianta un'altra pianta straordinaria per questo se poi aggiungiamo ecco qui diciamo quest'altra pianta che in questa fase è un po' problematica da mangiare insomma ma vedete che assomiglia anche molto al carciofo al carciofo selvatico questo è il cardomariano che è un'altra pianta straordinaria non a caso le piante che sono dedicate a Maria, alla Madonna sono delle piante eccezionali sono le piante di cui le proprietà terapeutiche sono molto molto utilizzate nella tradizione popolare tra parentesi questo è collegato anche un rito della notte di San Giovanni che è successo? della notte di San Giovanni che le ragazze un tempo che volevano maritarsi e non sapevano chi scegliere perché avevano casomai fortuna loro più pretendenti mettevano praticamente dei boccioli fiorali del cardomariano che stava un po' più avanti di questo qua in bicchieri in diversi bicchieri e ogni bicchiere corrispondeva il nome del diciamo del pretendente il fiore che sbocciava il giorno dopo corrispondeva alla scelta che doveva fare se ne sbocciavano due lascia voi immaginare che cosa poteva succedere ma questi sono fatti personali e a noi non ci interessa ok allora questo vedete mi ha fatto così ho messo anche l'immagine di San Crispino si vede preghente dalla borsa e dall'abisaccio preghente che lui ha compare anche questa pianta quindi questa è un'altra pianta straordinaria ma giusto per farvi vedere che la ricerca si sta anche qui focalizzando su questa questa è una ricerca abbastanza recente del 2022 quindi dell'anno scorso e vi elenco semplicemente quali sono i scusate azione antimitotica antibatterica antimitotico antibiotico potenziale poi antiossidante poi abbiamo anche il antinfiammatorio e alla fine abbiamo anche potenziale antitumorale quindi vediamo che la ricerca sta sempre di più focalizzando l'attenzione su questi su questi su queste piante che veramente considera ancora un'altra straordinaria quindi iniziamo adesso a vedere a portarci insomma a casa non solamente l'ortica ma un pochettino anche di maggiore consapevolezza di quello che mangiamo e forse rintrodurre anche di più nelle nostre relazioni alimentari più piante di queste vado velocemente perché praticamente abbiamo proprio un quarto d'ora velocemente la borragine pregi e difetti di questa pianta vado direttamente al al dunque perché si chiama borragine perché molto probabilmente chi la raccolta lo sa sapete che è coperta da questa pelosità alcune volte ruvida soprattutto quando la pianta inizia nella fase di fioritura ecco questa assomiglia pregente alla avete mai strofilato i sacchi di juta ecco per i romani questo aveva un tessuto che veniva chiamato burra per cui pregheria significa la pianta che ha le foglie che ricordano pregheria questo manto che era di lana in realtà però sapete quelle quelle belle magliette belle toste pelose che si usavano un tempo i fiori si possono mangiare i fiori si possono mangiare lei è un appassionato di fiori ah no era l'alda giusto avevo sentito la voce pensavo sì i fiori si vengono vengono utilizzati soprattutto anche nell'anche qua nel nel dressing cioè nell'impiattamento in questo fiore è bellissimo dico scusa sì è una liceria o è vero che mangiare tanta burragge non può essere mangiare allora anche qui infatti questo l'avrei detto alla fine lo anticipo adesso allora nella la burragge ne contiene questi alcaloidi pirolizidinici no? che soprattutto nel fegato vengono trasformati in pirrolati vabbè che hanno una funzione di occlusione dell'avena sopraipatica quindi questo preghetto può dare dei fenomeni di tossicità il problema come diceva un alchimista del 1500 Paracelso che penso abbiate sentito il nome è la dose che fa il veleno se uno ne mangia un chilo al giorno per un mese di continuo allora anche qua il problema cioè è vero si fanno degli esperimenti si prendono questi principi attivi e si testano su linee cellulari ma dimentichiamo che sono dosaggi molto alti uno secondo non teniamo in considerazione il fito complesso come al solito che ci protegge quindi in realtà la burragge ne possiamo mangiare tanto poi alla fine si mangia in una stagione quindi si mangiano si fa fritta si fa cose si mettono la minestra maritata prima senti io parlare da quelle anche cruda ma veramente non non fa male ecco quindi diciamo sfatiamo anche questo anche sotto sotto gli obiettivi addirittura anche il finocchio perché contiene l'estragolo no? allora anche qui il problema dell'estragolo è che se ti mangi l'estragolo da solo e ti mangi 20 kg di finocchi ti fa male ma qualsiasi cosa perché le mangiate in grosse quantità fa male allora volevo farvi diciamo associare no? senza tutta sta capa di chiacchiere che vi sto facendo una cosa interessante la burragge è chiamato l'erba del buon umore quindi infatti alcune questo nel passato e tutti quanti hanno considerato questa pianta come una pianta del buon umore una pianta che serviva a curare anche a lenire questi momenti di malinconia anche di di depressione veniva utilizzata anche durante soprattutto anche in questi in questi casi questa anche questa è una pianta ruderale di ambiente così volevo far vedere una cosa interessante no? quindi pianta del buon umore ma un altro aspetto interessante di questa pianta è il fatto che contiene anche del diciamo acidi grassi omega 3 e omega 6 che sono contenuti soprattutto nei semi allora infatti si vede anche l'olio di borragine che è particolarmente diciamo ricco di acido linoleico e linoleico che sono praticamente un pochettino i precursori di questo degli acidi perfetto e questi sono vari vari studi sempre scientifici che anche questa pianta è buona per il colesterolo quindi pizza e minestra abbiamo già visto cicoria cacigni e borragine già siamo su tre e vediamo che agisce sempre su questo su questo livello e e e volevo far vedere anche un altro aspetto interessante questo non ci coglio più e ha una funzione adesso insomma un po' complicata da spiegare soprattutto in questo momento di protezione anche del del DNA cioè epigenetica si dice fa esprimere alcuni geni che per noi vanno bene per produrre soprattutto dei dei specifici enzimi questo è quello che dicevamo il fatto della della dell'attenzione perché è reputata fitotossica ma attenzione chiaramente questo soprattutto se si consuma con frequenza e con dosi che sono abbondanti dobbiamo andarci finito proprio allora farvi vedere giusto delle cose due minuti rosmarino pianta anche qua tra alcuni rosa di maria in realtà significa arbusto di vicino al mare ma c'è l'acido carnosico il carnosolo praticamente una sostanza contenuta abbondantemente nel rosmarino ma anche nell'origola anche nella salvia che supera la barriera ematoencefalica cioè praticamente arriva direttamente nel cervello senza avere questo filtro e ha una funzione praticamente antiossidante sull'ippocampo quindi su una parte del nostro cervello che è delegata alla nostra memoria quindi è una pianta il rosmarino e la salvia che sono utilissime soprattutto per migliorare la memoria adesso non mi ricordo come? come? l'essicato allora l'essicato si e no dipende da pianta a pianta allora l'essicato perde sempre in alcuni casi delle proprietà soprattutto però gli elio essenziali bene o male si mantengono quindi alcune volte hanno visto che degli studenti delle tisane a base anche di salvia aumentava del 20-30% le performance di memoria degli studenti in alcuni studenti irlandesi ma volevo finire questo con questa parte qui questo effetto anche antiossidante diciamo di queste di queste blend di sostanze tra cui l'acido carnosico ha anche una funzione positiva soprattutto anche dal punto di vista degli occhi tanto è vero quello che si è visto che diciamo in qualche modo riduce ferma in alcuni casi dei problemi legati alle maculopatie no? quindi praticamente alla riduzione del viso soprattutto nella zona centrale quindi abbiamo visto anche qua un'altra pianta che ha una una potere esagerato notevolissimo di azioni che sono tutte quante benefiche e soprattutto anche quando si cuoce la carne no? si fa la rosa si mette il rosmarino perché anche qua tutti gli oli essenziali hanno il potere di stoppare tanto per l'acrilamide cioè o comunque altre altre sostanze diciamo se non mi ricordo quali che hanno le patate fritte e altre cose che sono cancerogene quindi preghete esatto 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 con questo io vi ringrazio e scusate che ho fatto la capa di Ghek è stato finito grazie 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 grazie